Sono genovese e in quanto tale la focaccia con le cipolle in casa mia non può mai mancare. Non sempre ho voglia di prepararla, ma oggi sì. L'impasto si prepara con farina 00, farina manitoba, sale, acqua, lievito di birra, fresco o seco che preferite, e l'olio. Fate lievitare, poi la mettete in una teglia, schiacciate bene e la lasciate lievitare ancora. A questo punto dovrete fare due cose. La prima, spiegarmi come fate a non piangere quando togliate le cipolle. La seconda è mettere le cipolle in padella con acqua, sale, zucchero e olio. 5 minuti e le mettete sull'impasto. Preparatevi a fare i buchi, perché la focaccia senza buchi non è focaccia. Infornate e quando sotto sarà così, allora potrete sfornarla. E se mesi fa siete inorriditi a vedermi pucciare la focaccia nel cappuccino, sappiate che il vero genovese, quello livello pro, quello per cui ti danno la cittadinanza onoraria, nel cappuccino ci puccia la focaccia con le cipolle. Fatevi un giro alle 7 del mattino nei nostri bar e vedrete coragione. Comunque, se ancora non siete pronti, preparatevi lo stesso la focaccia con le cipolle, perché è davvero buona. Faccio la foto e si può mangiare. Eh, devo fare la foto. Allacciate il grembile e provatela anche voi. Mi ero dimenticata di dirlo, no?